Io sono Faiablu, sono venito all'Italia quasi quundici anni fa e ce l'ho permesso Questo giorno lavoravo, io lavoravo quasi sette anni fa, ho perso il mio lavoro e per la mia dignità non posso rimanere a casa, devo vivere, ho tante cose da fare, devo pagare le fitte, devo pagare le bollette, devo mangiare Io sono giovane, voglio lavorare, voglio cercare per noi e trovare lavoro e per vivere devo fare questo lavoro Per vivere devo fare questo lavoro, devo andare a rubare, fare altre cose, non, queste cose non le fanno mai Però per vivere devo andare a fare questo lavoro, vendre mia roba, l'ambilante o altre cose Noi siamo lavorati in Piazza Carada, ma siamo un parcheggio e vuol dire che il parcheggio è un lavoro Devi cercare un lavoro ma non trovo un lavoro Mi senti del giornale Pisa e dici calandice, non sono calandice, sono per il misogiorno, sono parte di IVA, c'è tutto, devi pagare la fitta, devi pagare la bollette, con dell'acqua di tutto Ma come funziona per rimanere a casa senza lavoro Voglio parlare un po' ma questa parola è un po' difficile perché quando parla non si capisce come posso dirlo Perché io sono qua dal 90, l'italiano 90, è venuto qua in Italia Ho lavorato 20 anni dal regolo, da Milano Allora ho perso il lavoro E ho cercato ma non sono più Allora non posso trovare indietro, lasciato qua la mia pensione così Non si può Vedo che c'è tanti di nuovo che non capiscono ancora come funziona qui Per quello c'è un po' di rumori qua in piazza, però non vedo altre cose, niente di grave non lo vedo Vedo che non capiscono ancora come funziona Poi so che siamo diventati di più qua in piazza per quello che io vedo, però altri casino non c'è qui La polizia, non lo so, sono venuti qua, dicono che l'hanno mandato loro, il profetto ha mandato loro per mandare via a noi Vedo quello Loro non dicono niente, quando vengono lì dicono che andate via di qui perché non ci deve cessare Tutte queste settimane venivano loro, la polizia, o carabinieri, o finanza, chiunque Però quello che dicono è che noi abbiamo capo che gli diamo soldi, no Noi ognuno vai con conto suo, non è che ci va a dare chiunque soldi, capito, no Poi se anche fosse vero che sono vittima del racket Io ricordo che una legge che a noi non piace, che è la Bossi Fini, l'articolo 18 del testo unico immigrazione Dice che quando una persona è vittima di tratta, gli si dà un permesso di soggiorno, gli si dà un'accoglienza gratuita La si aiuta al reinserimento lavorativo e in questo modo si può sgominare il racket Qui si sta facendo il contrario, cioè si stanno perseguendo le vittime di un ipotetico racket Allora, come dire, andiamoci piano con questa cosa, no Perché sembra un ragionamento che si fa un po' per lavarsi la coscienza Cioè si fanno i ride contro i ragazzi e però ci si dice che stiamo lottando contro il racket Noi vorremmo sapere quale racket, perché naturalmente se ci sono delle informazioni che noi non conosciamo siamo ben liati di apprenderlo Però finora non c'è stata una evidenza investigativa, non c'è stato un processo, non c'è stata un'apertura di procedimento Non si possono dire queste cose in maniera così grave La nostra umanità, la nostra umanità non sarà schiacciata Da tutta la mischinità, la nostra umanità non sarà schiacciata Che vi verrà pirata Qui c'è tanto lavoro nel weekend, ma anche lunedì la vita può cambiare meglio Quanti siete qua? Quando vedi qui la piazza, come piccolo, te vedi come noi siamo un po' diversi, no? Te vedi 10 persone per te è tanto, no? Si Ma il canale è così, 10 persone per voi è tanto Quello quello Quelli che vivono sono di più di noi Ti ho messo i documenti Ti ho la licenza di vendere E come si deve fare? Quando non c'è lavoro deve aller vendere E quello che io ho visto E quello che loro dicono, dissi che le ragazzi fanno di male alla gente Questo io non lo capisco Perché noi siamo qui Aiutare la gente Se noi vendiamo le roba non è falsa Ombrella Tindini Faciletti Selfie Calcini Etcetera, eccetera Questa roba non è falsa Questa roba non è falsa E il nostro senso è ambulante Noi facciamo ambulante E loro dicono che non devono fare così E che noi facciamo Loro sono in qualche modo colpiti come tanti cittadini italiani dalla crisi Ce l'hanno raccontato durante le telecamere Molti di loro lavoravano, c'è chi lavorava nel nord, c'è chi lavorava a Santa Croce Hanno perso il lavoro Ecco, molti vengono dalla zona Molti vengono dalla zona Santa Croce Hanno detto anche il contadere Perché sta succedendo un po' il contrario di quello che succedeva anni fa Cioè in epoca espansiva, la gente di espansione dell'economia La gente arrivava a Pisa, si sistemava un po' e poi andava a lavorare a Santa Croce Cioè ora sta succedendo l'organismo contrario Spulsi da Santa Croce Ritornano qui Quindi diciamo, quello che sta succedendo è uno dei tanti prodotti della crisi E soprattutto è anche vero questo Che sì, sono colpiti dalla crisi come tutti Come tutti i lavoratori e le lavoratrici in Italia Per cui manca per tutti il lavoro Dopodiché è anche vero che hanno un ricatto in più Ovvero che senza il lavoro Non riescono a rinnovare il proprio permesso di soggiorno Questo è senza una dimostrazione di un reddito Non riescono a rinnovare il permesso di soggiorno Di conseguenza Chiaro è che anche se per loro questa non è l'aspirazione lavorativa E come hanno fatto in passato Sarebbero ben contenti di lavorare in altri luoghi Ovviamente questa ulteriore precarietà li spinge A un po' arrangiarsi Poi naturalmente alla questura devono esibire le prove che hanno maturato un certo reddito Perché altrimenti non si rinnova il permesso Questo significa che loro poi devono pagare delle tasse Sapete che le tasse per la parità di qua sono molto alte La nostra umanità, la nostra umanità non sarà schiacciata Da tutta la mischinità la nostra umanità non sarà schiacciata Ma non si risolve questo problema mandando la polizia Perché il problema si sposterà, diventerà più grave Ci saranno maggiori sofferenze per loro Rischiamo di esporli al racket Perché adesso non c'è il racket Ma naturalmente se li cacciamo da tutti i posti Siccome queste persone poi dovranno in qualche modo sopravvivere Potranno finire vittime di racket Invece la possibile strada Non dico la soluzione Ma la strada è quella maestra che abbiamo sempre detto Sediamoci attorno a un tavolo E ragioniamo di quali sono i problemi E di quali sono le possibili strade di soluzione